Buongiorno, grazie dell'invito, grazie di questa bella l'organizzazione di questo evento, probabilmente ho visto una formazione crota coscibile, quindi c'è veramente tanto interesse, anche da parte mia, perché sapete che sono anche medico, e è un evento veramente interessante, che credo porterà a un sviluppo di collaborazione, anzi lo spero proprio, perché l'assessore sociale, ovviamente lavoriamo con tanti assistenti sociali, operazioni di assistenza, di aiuto, con i nostri anziani frasi, con i bambini di difficoltà, e anche in ospedale abbiamo bisogno di maggior uso di contatto, di empatia, come ho detto anche qua. Noi siamo vittuati a poco, come Veneti, al contatto, ricordo sempre anche, le mani dicono, oi bambini, le mani toccate, si viziano, eccetera, e invece è dimostrato, dicono anche gli ultimi dati, che i primi tre mesi lo puoi toccare, anzi tutto che meglio è, non lo vizi sicuramente, e vi do solo un dato che mi ha fatto pensare, questa è una settimana molto intensa, perché c'è anche festa della cittadinanza, e ieri abbiamo parlato dell'affido, e abbiamo un dato che tra i 0 ai 2 anni, purtroppo, ancora quasi il 30% dei bambini di quell'età, non riesce a trovare una famiglia affidataria, e va in una comunità, pensate appunto alla differenza, se è una comunità, allora, vabbè, sono anche molto grandi, molto vecivolo, recuperatore, eccetera, rispetto ad avere una famiglia affidataria dove con tanto c'è il motivo. Per cui grazie veramente per aver fatto questo evento, che ribalta anche il nostro modo di pensare, ci rende più empatici, più solidari, per noi. Grazie.